Strano pescare a quello di Torino, più che limiti tecnici comunque evidenti rispetto ai Granata, l'undici di Di Francesco ha palesato carenze caratteriali. Nel momento probabilmente più difficile dell'intera stagione del Toro, i biancazzurri trovano il vantaggio nella primavera sortita e poi smettono di colpo di aggredire gli avversari ormai prossimi al capotecnico. Un atteggiamento di sufficienza che non è andato giù ad Eusebio Di Francesco, che aveva sottolineato proprio la settimana scorsa quegli occhi della Tigre mostrati dalla squadra e che tanto gli erano piaciuti. Dovamo essere più bravi a gestire il vantaggio, stavo facendo entrare Nicco un po' prima del gol che abbiamo subito nel secondo tempo, questo è stato un piccolo rammarico perché volevo ridare un pochino più di equilibrio in mezzo al campo, anche se fondamentalmente la partita sarebbe un po' assestata sull'1-1 perché dopo il nostro vantaggio abbiamo avuto 20 minuti di gestione della partita bene tenendo palla a terra. Dove non mi sono piaciuti i ragazzi, allo stesso tempo nelle scelte che hanno fatto di gioco, il fatto di giocare poco con palla a terra, quello che noi prepariamo durante la settimana, dobbiamo ritornare a ricercare questo gioco che un po' di tempo manca ma dettato a volte spesso da tanti cambiamenti, magari da situazioni che non ci aiutano a livello proprio fisico generale. Ma Torino è ormai alle spalle, il Tour de Force prosegue, ecco l'Empoli nel recupero della gara rinviata lo scorso 22 gennaio per la pioggia. Di Francesco, ed è una novità, ha fatto allenare i suoi a porte chiuse, lontani da occhi più o meno interessati, dunque niente tifosi al poggio, né giornalisti e soprattutto cancelli chiusi per osservatori esterni che sembra ci fossero alla vigilia della gara col Varese. Della serie la prudenza non è mai troppa, la sensazione è che Di Francesco sia pronto a sorprendere con qualche variazione tattica. D'altronde sono arruolabili Bonanni, Soddimo e Verratti, tutti out sabato a Torino, mentre Ariatti e Ganci sono prossimi al completo recupero. Sto recuperando dei giocatori importanti, mi auguro di non perdere più di tanti per strada, devo dire che davanti stiamo recuperando diversi giocatori, a partire da Bucchi, lo stesso Ganci della prossima, non dico la prossima settimana, ma penso che per la prossima partita sia disponibile, questo magari ce ne saranno tanti di attaccanti ma ben vengono perché ho la possibilità di scegliere. Il concetto pro di fondo non è tanto averle a disposizione ma averli in condizioni ottimali e questo dobbiamo ancora raggiungerlo con diversi giocatori. Problemi in attacco di contro per l'Empolese Aglietti, non figurano tra i convocati Fabbrini, Foti, Lazzari e Levan, possibile il rientro di Marzorati in difesa. Abbiamo queste due partite in casa, pensiamo alla prima che l'Empoli è una partita molto dedicata, una squadra che secondo me ha dei giovani veramente interessanti, in grande condizione e all'attaccante più forte della categoria. Fischio di inizio fissato per le 18.30, arbitra Velotto di Grosseto.